Oggi vi faccio vedere il processo di guarigione di un tatuaggio durante la prima settimana. Dopo aver tenuto il pad assorbente per tutta la prima notte, ho dato una bella lavata al tatuaggio togliendo tutti i residui di inchiostro e siero. Piero di pellicola che stava ancora spurgando e sono andato in studio. Nel pomeriggio, rilavato, e ho iniziato a mettere la crema. Già il secondo giorno la situazione era molto più tranquilla e ho continuato a mettere la crema. Giustamente il terzo giorno sbatto violentissimo contro l'angolo del tavolo e mi apro un po' il tatuaggio, ma non succede nulla di che. Il quarto giorno è la mia parte preferita, comincio a spellarmi tantissimo lasciando pelle dappertutto. E vi giuro nel giro di forse 24 ore mi si è tolto tutto il primo strato di pelle. Guardate come è bella svolazzante. Devo dire che ho guarito tutto decisamente bene, non vedo l'ora che il colore si uniformi all'altro. e solo una piccola crostona tipo più impegnativa, però per il resto top.